Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto e Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e il Bidio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze rallentamenti tra Lastra, Signa e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori code a tratti tra Imprunita Greve e Inchianti e l'allacciamento a 1 di Firenze Imprunita in entrambe le direzioni. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione Sud. La viabilità cittadina a Firenze in via Gioverti, chiusura strada per scavo urgente con rallentamenti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!